Una mattinata intensa dunque al PF Expo, si è parlato di tantissimi temi, sviluppo della professione di promotore finanziario e si è parlato di consulenza. Come si declina la consulenza nella rete di Monte dei Paschi di Siena? La consulenza non solo nel mondo del Monte dei Paschi di Siena, si declina sempre nella stessa maniera, dove il consulente finanziario è il vero gestore della relazione e l'intermediario per il quale lui opera deve essere un intermediario in grado di dare tutti i supporti formativi, informativi, di servizio, di prodotti e tecnologici adeguati per fare una consulenza di eccellenza che deve creare la differenza tra la mera erogazione di prodotti e servizi di inversimento a quella che deve essere la vera e propria consulenza, non più finanziaria ma la consulenza patrimoniale.